È un appuntamento fisso quello con il calendario storico dell'arma dei carabinieri. L'edizione 2024 è stata presentata questa mattina contemporaneamente sia a Campobasso che a Isernia. Le firme delle 12 tavole sono importanti, lo studio Pininfarina e il giornalista Massimo Gramellini. Il comandante provinciale di Campobasso Luigi Delegrazi ha evidenziato che il filo conduttore delle 12 storie è il senso del dovere. Il senso del dovere è quello che contraddistingue ogni giorno l'operato dei carabinieri in tutta Italia, in tutte le specialità, anche al di fuori dei territori nazionali, come le testimonianze da tutto il mondo arrivano verso la benemerita arma dei carabinieri, anche nelle missioni all'estero. Ma fondamentalmente in Italia, così come possiamo leggere all'interno del calendario, c'è l'impegno di uturno dei carabinieri a supporto delle popolazioni, sia nel periodo della pandemia, sia durante il referendum costituzionale del 1945, c'è sempre questo fil rouge che attraversa l'intera storia dell'arma dei carabinieri, ormai oltre 200 anni. Oltre al calendario sono stati pubblicati anche l'edizione 2024 dell'Agenda Illustrata, il planning e il calendario da tavolo, dedicato anche quest'anno al tema dei carabinieri nei borghi più belli d'Italia. Qui c'è anche il Molise. Una foto dedicata a Fornelli, come l'anno scorso c'era a Frosolone, quindi siamo lieti, anche un punto di vanto per noi, avere uno dei borghi più belli della provincia su planning da tavolo, quindi ci farà compagnia per tutto l'anno, e anzi lo concluderà perché Fornelli rappresenta il mese di dicembre.